Vogliono certezze, vogliono lavorare, sono i lavoratori dell'indotto dello stabilimento Eni di Gela che protestano contro la chiusura della raffineria e come dicevamo contro la sua mancata riconversione in Green Raffinery. Si sentono stanchi di aspettare notizie che non arrivano. In gioco, e lo abbiamo detto tante volte, c'è il lavoro. La finalità principale è la dignità per le famiglie e vorrei ringraziare il signor Crocetta, onorevole Crocetta, presidente della regione. Per quanto riguarda i problemi che lui ha posto per quanto riguarda i posti di lavoro che non venivano a perdersi un posto di lavoro nella città di Gela vedo come la politica è distante dai lavoratori che hanno problemi tutti i giorni per mantenere la famiglia. E si parla di Gela soltanto quando ci sono fatti delinquenziali e non si parla dei lavoratori che soffrono in silenzio tutti i giorni per poter mantenere le famiglie onestamente. Qua non si occupa nessuno del nostro territorio. E lei da quanto tempo è che non lavora e come fa a mantenere la famiglia? Io sono in casa di integrazione e riesco a mantenere, astendo la mia famiglia. Ho quattro ragazzi da mantenere e sono monoreddito. Anche io ho il diritto di genitore di mantenere con dignità, non con lusso, con dignità i miei figli per poter dare loro un futuro e poterli dargli la dignità di uomini liberi, di studiare, poter mantenere il minimo indispensabile per i nostri figli. Ma non si era detto dal 6 novembre del 2014 che doveva essere avviata la riconversione a Gela e dunque ci sarebbe stata ancora una stabilità economica? Chiacchiere, solo chiacchiere abbiamo sentito, solamente quello. Lei da quanto tempo è che non lavora? Da due anni quasi.